Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, è arrivato il momento di fare l'estrazione del giveaway per scoprire chi è il fortunato o la fortunata a vincere. Ma prima di iniziare volevo ringraziare tutti voi che avete partecipato al concorso e vi siete sbizzarriti a lasciarmi un sacco di domande. Non me lo aspettavo ma siete stati davvero in tantissimi, quindi grazie a tutti. Le tre semplici regole da rispettare per partecipare erano 1. Essere iscritti al canale, 2. Aver messo mi piace al video del giveaway e 3. Aver lasciato un commento e ripeto un solo commento con scritto partecipo e una domanda con l'hashtag AskJada. Ho notato tra i vari commenti che qualcuno non ha proprio seguito le regole, quindi adesso che estrarò il vincitore mi accorgerò se non avete rispettato il regolamento e quindi verrete automaticamente eliminati. Iniziamo! Per estrarre il vincitore o la vincitrice di questo giveaway utilizzo il sito www.randomcommentpicker.com In questa casella inserisco il link del video del giveaway che vado subito a recuperare. Ecco qui il video del giveaway, copio e indirizzo, incolla. Poi premendo questo tasto rosso, load comments, il sito inizia a elaborare automaticamente tutti i commenti che mi avete lasciato sotto il video del giveaway e alla fine ne estrarrà uno a caso. Procediamo. Come vedete sta caricando i commenti e in totale notiamo subito che sono 177, quindi vi ringrazio perché siete stati in tanti e non me lo aspettavo. L'ultimo step, quello più importante e più atteso da tutti voi, consiste nel premere questo tasto verde Randomly Pick Winner. Siete pronti? Siete curiosi? Rullo di tamburi! Click! The winner is Angel Angel. Vediamo se ha rispettato tutte le regole. Like 1, commenti totali 1, partecipo, ask Giada, fai una classifica da 1 a 5 dei tuoi marchi make up preferiti. Bravissima, fino a qua ci siamo, alla domanda rispondo in un altro video. Controllo se ti sei iscritta al mio canale e se la tua iscrizione è pubblica e visibile. Eccomi qua già da mille esperienze, quindi complimenti Angel Angel perché hai vinto questo giveaway. Mi raccomando, contattami con un messaggio privato su Facebook oppure lasciami la tua mail sotto in un video, in un commento o ancora puoi inviarmi un mail, insomma decidi tu come contattarmi. Quindi ti faccio ancora i miei complimenti e ringrazio tutti gli altri per aver partecipato a questo giveaway. Noi ci vediamo venerdì con un altro video. Ciao! Ciao!